A partire dalla prossima settimana prenderanno il via i lavori di risistemazione dell'area sportiva all'aperto del campus che sorge a fianco del cimitero centrale e delle liceo Torelli di Fano. L'intervento, a carico della provincia di Pesare e Urbino, ammonta 2 milioni e 762 mila euro con fondi provenienti dal PNRR. Il termine del cantiere è previsto entro l'anno 2024. Questa è la dimostrazione che quanto si lavora in sinergia si riescono a fare grandi cose. Qui avremo un impianto sportivo che sarà a disposizione della Fano Rugby, avremo le piste di atletica e avremo un luogo dove gli studenti potranno fare attività sportive. Questo unito a una buona scuola, ad un'attività fisica, secondo me può portare solo a un miglioramento non solo della qualità della vita ma anche della quoziente intellettivo, visto che come dicevano gli antichi latini, mensana, incorpore sano, è una cosa che funziona sempre. Qual è invece lo stato dei lavori per quanto riguarda il liceo Nolfi ex Carducci? I lavori sono iniziati, stanno proseguendo, naturalmente adesso stanno smontando tutta quella che è la parte degli infissi, delle porte, tutte le strutture interno con i vari cavi elettrici eccetera eccetera. Poi ci sarà la demolizione e poi la posa della prima pietra. Maurizio Bartoli, quali sono nello specifico gli interventi? È un intervento che volge una riqualificazione complessiva di tutta l'area sportiva, dall'impianto nuovo elettrico di illuminazione al rifacimento delle piste. Saranno utilizzati tutti i materiali ecosostenibili sia per il campo sintetico del rugby, il verde dell'erba sintetica, che per quanto riguarda quello di atletica. In più verranno realizzate due piccole tribune, lato cimitero, con un ingresso diretto dal parcheggio. Mentre lato scuole verrà realizzato dei nuovi spogliatoi per gli istituti scolastici e un piccolo bar. Per altri lavori che riqualificheranno tutta la zona con i nuovi impianti fognari fatti con l'ASET. E quindi un intervento molto complesso anche in quest'area qui perché si aggiungono anche tutti i sottoservizi. Soddisfatti i dirigenti scolastici Samuele Giombi e Raffaele Balzano presenti insieme al presidente del Fano Rugby Giorgio Brunacci e ai rappresentanti dell'impresa che condurrà i lavori. Infatti il nuovo impianto risponderà alle esigenze degli studenti e valorizzerà l'attività di questa disciplina. Qui devo ringraziare i progettisti, la provincia. Avremo veramente una struttura sportiva che si unisce a tanti altri interventi nella città e anche nel mondo dello sport. Possiamo dire che la città si è trasformata con tanti nuovi impianti moderni, riqualificati e belli e funzionali.